Deve difendere il secondo posto da tutto e da tutti l'amici del volley Giarre, che però domenica scorsa Sant'Angelo di Brolo, nel campionato di Serie C di pallavolo femminile, ha messo un tassello importante, andando a battere una diretta concorrente, la Saracena, che all'andata, peraltro, aveva tirato un tiro mancino alle Giarresi. 25-16, 25-21 e 25-23, i parziali con cui Giarre trionfa in rival Tirreno. Prestazione perfetta da parte delle ragazze di Claudio Mantarro, che vincono uno scontro importante per l'accesso ai play-off e che domenica dovranno centrare un altro successo pieno al Palacannavò contro il Messana Tremonti, squadra che milita nei bassi fondi della classifica. Sempre in Serie C, ma tra gli uomini, campionato virtualmente finito per la New Image Volley Giarre, a due giornate dalla fine del campionato. Domenica scorsa i rossazzurri sono stati sconfitti sul campo della Team Volley Messina per 3-7-0.